www.marizofoli.it Interessante possibilità per quanto riguarda fonti di finanziamento per le piccole e medie imprese. Il crowdfunding, quindi interessantissima operatività per le società che sono censite dalla Consum e autorizzate a fare operazioni crowdfunding, è estesa la possibilità per finanziare le SRL italiane, soprattutto quelle più attive, quindi nella gazzetta ufficiale del 24 di marzo è stato fatto e pubblicato il decreso legislativo che estende l'operatività del crowdfunding anche alle società SRL a responsabilità limitata. Prima era limitata la SPA e le società, le start-up innovative, quindi questa correzione, questa opportunità è molto interessante per le SRL per reperire capitali e fonti di finanziamento alternative ai propri progetti di espansione e di finanza per l'impresa. Vi riporto un articolo, una buona lettura.